buongiorno a tutti da ermanno frassoni motor font tv siamo qui con walter sciacca consulente internazionale per progetti legati alla costruzione di nuovi autodromi nonché già direttore e amministratore delegato dell'autodromo enzo edino ferrari di imola benvenuto walter e grazie innanzitutto per aver accettato il mio invito buongiorno a tutti buongiorno ermanno grazie a te per aver invitato vorrei cominciare questa intervista chiedendoti prima di tutto come stai e poi come stai affrontando questo periodo di blocco diciamo pressoché totale dell'attività fortunatamente la mia famiglia io stiamo bene questa è la notizia per me più importante in assoluto la salute prima di ogni altro altro aspetto sto affrontando questo periodo di reclusione forzata con come tutti i rai come tutti quanti del resto cioè mi rispettando le norme non non uscendo se non per le necessità contemplate dal dal dpcm per quanto riguarda tutto il resto si lavora smart working si 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 prova a continuare a lavorare perché in questo momento è un po difficile tutto vorrei chiederti una panoramica diciamo così sulla situazione relativa ai progetti dei nuovi circuiti in giro per il mondo sperando ovviamente che riprendano perché questa per panoramica non può che essere ovviamente pre-covid sì certamente adesso viviamo in un momento in cui tutto è direi congelato messo in stand by sta lì in attesa di sviluppi sì procediamo con la panoramica ante covid è corretto quello che tu dici è una panoramica molto rosea diciamo che a livello internazionale si prevedeva in un arco temporale di cinque dieci anni la nascita di circa 120 autodomi nuovi a livello globale il dato più significativo arriva proprio dalla cina sembra strano ma è così la cina aveva di caveva insomma spero che possiamo togliere aveva tra qualche settimana se non qualche mese poterlo usare un verbo diverso 75 progetti di autodomi da dover realizzare o quantomeno 75 idee di progetti di autodomi da dover realizzare in un arco temporale di cinque dieci anni seguiva l'australia con ben 15 progetti di autodomi da realizzare quindi sono dati abbastanza importanti per continuare con altre nazioni come cambogia dietram te le dico molto rapidamente laos corea del sud la tailandia voleva stava pensando a un nuovo circuito così come la malessia indonesia per esempio taiwan anche le filippine in india stavano iniziando a lavorare a quello che è il loro terzo circuito ne hanno già due una nord e una sud e in oman devo dire più volte avevano tentato di realizzare un circuito ma una serie di ragioni politiche non erano riusciti gli emirati arabi stanno spingendo per avere un alto circuito ancora oltre ad abu dhabi e dubai anche il qatar vorrebbe un secondo circuito più confacente alle auto che non con le moto un progetto sicuramente degno di dimensione è un progetto che stanno realizzando a quidia che si trova esattamente a sud di riad in arabia saudita è un progetto devo dire quello che viene definito un giga progetto sono un progetto da otto miliardi di dollari per quello che sarà il parco dei divertimenti più grande al mondo loro non hanno smesso di lavorare in tutto questo periodo lavorano continuamente io sono in contatto con questo fondo di investimento che poi partiene a casa reale ed è previsto all'interno di quelle sono le cinque aree in cui viene diviso questo mega progetto di parco di divertimento e di intrattenimento è previsto appunto la realizzazione di un autodromo quasi avveneristico forse non ci sarebbe da togliere quasi perché stando a quello che mi hanno fatto vedere insomma c'è questo autodromo a tratti entrerà dentro un acquario cioè robe veramente quasi da fantascienza quindi e non a caso infatti l'investimento è importante ti do l'ultimo dato sempre di arabia saudita e di questo progetto come dicevo a sud di riad l'aria di interesse è di 342 chilometri quadrati quindi stiamo parlando di cosa inimmaginabile quindi alberi costruiscono una città del divertimento e dell'intrattenimento quindi questo qua poi ci sono altri autodromi che potrebbero sorgere in turchia ci sta già insomma in russia si parlava di realizzare un nuovo autodromo in america stanno nascendo piccoli autodromi club in canada in sud america ci sono dei progetti ma ancora non si è ben capito questo sembrante virus se i fondi finanzieranno questo tipo di operazioni e e poi da da anni si si prova a realizzare circuiti in marocco tunisia algeria vedremo a questo punto vedremo cioè si era andati vicini a realizzare un circuito proprio barocco perché non fosse cittadino come quello che attualmente utilizzano per le gare che svolgono quindi la panoramica era sicuramente positiva io ho girato molte delle nazioni di cui ti ho accennato e i persupposti erano tutti favorevoli cioè non c'era non c'era questa difficoltà adesso risentendo i governi fondi di investimento insomma o comunque le realtà private che erano interessate alla realizzazione di questi progetti c'è sicuramente quello che è un rastrendamento ed è anche normale perché ci sono a mio avviso in questo momento in alto due pandemie una è quella che noi tutti conosciamo è stata dal coronavirus e l'altra è la pandemia economica che ne è venuta fuori una pandemia economica inteso da crisi economica abbiamo la pandemia la crisi economica quindi abbiamo due problemi grossi uno sanitario un economico da dover fronteggiare e metterli sulla bilancia è veramente complicato infatti questo questo è la panoramica però cerchiamo di guardare con ottimismo non dico molto in là perché si fa fatica in questo momento a guardare molto lontano perché non non si hanno certezze da parte dei singoli governi non è solo una questione nostra nazionale quindi centenarie del governo italia credimi c'è confusione in tanti altri governi c'è chi apre tutto ma poi magari sanno loro cosa sta succedendo nella loro nazione non viene divulgato chi invece ha misure più o meno similari alle nostre è tutto da vedere spesso sento dire che l'italia è stata presa come modello da seguire come esempio ma parlando con i miei autori così non mi sembra però vedremo vedere nel motorsport ma non solo sei conosciuto come l'uomo dei circuiti però vorrei andare un po a ritroso come è nata la tua passione per i motori bellissima domanda è nata grazie al fatto che sono terzo di tre fratelli sono più piccolo due fratelli più grandi di ben 11 10 anni più di me ero piccolino loro appassionati di motorsport nasco a palermo in una terra in cui c'è a sede la gara più antica storica del mondo che la targa florio mi hanno iniziato seguendo la targa florio per poi seguire la formula 1 a monza piuttosto che la moto gp e tutte le altre gare che si svolgevano nel territorio nazionale e nella nostra regione e quindi io già all'età di sei anni mi sono ritrovato andare con loro a seguire la targa florio la mia prima gara fu proprio la targa florio la ricordo con una grandissima emozione unica direi che sotto questo punto di vista così come tutte le gare e poi via via l'opportunità di vedere grazie a loro e da lì è nata nata la passione che mi ha portato a praticare questo meraviglioso sport a livello agonistico con le moto una trentina di gare a livello nazionale divertendomi divertendo anche tanto non c'è un solo circuito in italia in cui ai tempi alcuni non erano ancora stati realizzati costruiti quindi non abbia corso e quindi se la domanda è chiedermi un po l'excursus del mio percorso insomma professionale si è partito tutto da una passione che mi ha portato poi da palermo a trasferirmi a 18 19 anni a roma lavoravo all'epoca per una società che organizzava un trofeo monomarca in giro per italia quindi iniziato a lavorare per questa società e da lì è iniziato tutto un meccanismo rettamente ma sai io dico lavorativo ma in realtà io mi ritenevo fortunato perché c'è stavo facendo quello che mi piaceva gli altri pagavano io venivo pagato per fare quello che mi piaceva quindi c'era qualcosa di incredibile per me c'era guarda gratis era bellissimo cioè nel frattempo lavoravo ma al di là di questo poi andando avanti nacque quella che oggi verrebbe definita una startup la mia prima azienda nacque proprio a minetto l'autodromo delle vante di minetto è cominciato a organizzare prove di bere moto corsi di vita sicura corsi di vita sportiva e da lì e da lì a salire insomma da minetto dopo qualche anno ci siamo trasferiti l'azienda man mano cresceva di dimensioni ci siamo trasferiti all'autodromo di valle lunga dove prima noi eravamo un cliente per l'autodromo di valle lunga poi siamo diventati noi un fornitore quindi non noleggiavo più la pista per organizzare le prove di bere moto ma al contrario avevo un contratto di servizio cioè come come service per gestire il nome per conto di ac valle lunga spa le prove di bere moto del loro circuito quindi portavano ovviamente il loro brand ma a gestirle sostanzialmente eravamo noi con quella che poi si è evoluta dalla prima azienda che si chiamava world racing sportive se poi in acqua e sciacca gruppe e altre aziende che mi si poi via via in moto per per gestire i vari eventi che abbiamo organizzato che è un passato a organizzare eventi per conto di brand importanti del settore moto dagli eventi ufficiali a lanci stampa a campionati monomarca piuttosto che alle scuole ufficiali di alcune alcuni di questi brand ci trovavamo a dover gestire 100 110 giornate di eventi l'anno quindi insomma un numero numero importante e non indifferente volevo chiederti c'è un avvenimento o più avvenimenti magari legati a una gara in particolare che ti sono rimasti nel cuore durante tutti questi anni vissuti nel motorsport sui circuiti è una bellissima domanda questa c'è tanti direi tanti non si so dire del mio amore non si scorda mai quindi devo ripetermi la targa florio la mia prima volta sei anni ricordo che avevo il cuore che batteva in maniera incredibile come se stessi correndo io in prima persona cioè mi sembrava uscisse dal petto per il numero di battiti che avevo soprattutto nelle speciali nelle prove notturne cioè era qualcosa di meraviglioso sentire il rombo di queste auto che arrivavano con tutti i fari davanti tantissimi fari ed era emozionante quindi sicuramente potrei dirti tutte quelle che sono state le prime volte quindi c'è la prima targa florio il primo gp di formula 1 del primo gp delle moto da gran premio e da lì poi crescendo crescendo posso elencarti tante gare la 500 miglia di indianapolis la 500 nascar di daytona la le mann la 24 di le mann e piuttosto le gare a spa franco champs al nurburgring molti in molti in molti di questi circuiti ho anche girato avuto l'opportunità di essere ospite di questi circuiti e di poter fare dei giri pista come passeggero e talvolta anche come non come pilota ma come conduttore insomma mi davo la lettura è stato veramente entusiasmante ricordo in particolar modo da ittona mentre giri pista di questo meraviglioso vale con un pilota professionista lo ricordo particolarmente un ricordo sicuramente non da poco che metto metto anche in questa carrellata è stato il mio debutto a imola come amministratore delegato direttore del circuito la mia prima giornata di attività viene contrassegnata da viene ricordata dei test di formula 1 della toro rosso con i piloti ufficiali insomma sono stato contentissimo di debuttare come direttore con la formula 1 che apriva la stagione agonistica del circuito dopo diversi anni che la formula 1 non non girava più a imola quindi per me è stata una soddisfazione enorme soddisfazione non venuta a caso ci ho lavorato parecchio perché era il mio obiettivo era quello di appunto riuscire a a debuttare in modo importante chiaro mi hai parlato poco fa delle tue origini siciliane ma come sei approdato all'autodromo di binetto dove hai creato la tua prima azienda sicilia l'unico autodromo all'epoca disponibile era l'autodromo di perlusa che apriva pochissime volte l'anno quindi per noi siciliani era veramente complicato poter dar sfogo alla nostra passione la sicilia per numero di licenziati auto sai per intenderci se non erro dovrebbe essere se non la prima la seconda ragione d'italia addirittura perché c'è un numero di gare intese come rally gare in salita con uno scalate importanti l'autodromo ha lavorato tantissimo fino a un certo periodo e poi non più non più per le moto era per noi motociclisti appassionati era complicato riuscire a girare in realtà ancora prima di perlusa potrei ricordare l'autodromo di siracusa che purtroppo è adesso è fermo cioè ridotto veramente insomma male molto male speriamo che possano in qualche modo rivalorizzarlo ci ci provarono a suo tempo ma insomma non è andata a buon fine quindi dicevo per usa era chiusa al circuito più vicino alla sicilia era binetto o valelunga ma valelunga non aveva una disponibilità come quella di binetto per poter andare a girare con la propria motocicletta binetto potrei girare quasi tutti i giorni e a costi differenti da valelunga oggettivamente ma per ovvie ragioni erano due piste con due tipologie differenti quindi da lì la frequentazione del circuito mi portò poi dopo una serie di anni a valutare potrebbe essere la sede ideale per mettere per costituire la prima azienda appunto come dicevo la chiamare world racing sportiva e e quindi la vita all'interno dell'autodromo del levante perché trovavo a mio avviso logico che un'azienda la cui missione principale obiettivo quello di organizzare eventi in pista dovesse avere una sede in pista indipendentemente dal fatto che organizzassi in quella pista o meno e quindi decisi di metterla lì anche per ragioni di costi era sicuramente più abbordabile rispetto ad altre realtà e quindi oggi si chiamerebbe startup mi nacque la mia la mia startup che in soli quattro anni mi portò a arrivare a trasferirmi all'autodromo di di valelunga dove diventando come ho detto prima service e ho assunto anche il ruolo di responsabile appunto della divisione eventi moto abbiamo sviluppato tutto il settore moto con le prove libere con eventi fino arrivare al mondiale superbike chiamoci allunga ospitato mondiale superbike del quale sono stato event color director manager della prima edizione che ricordi rai invece dell'autore a direzione dello storico autodromo di imola ricordi meravigliosi un periodo molto bello della della mia vita sicuramente tanti sacrifici ricordo il primo ricordo che posso dirti è la passione delle persone che collaboravano con l'autodromo di imola e al primo posto mi sento di mettere i commissari di percorso di imola una passione misurata per il loro autodromo e per quello che non era il loro lavoro ma era la loro missione la loro passione la loro voglia di contribuire durante gli eventi io ho sempre detto che i commissari di percorso unitamente a tutto il personale sanitario che ricordo con grandissima stima e riconoscenza sono e aggiungo e all'antincendio e qui cito i mitici leoni della cea quindi Rossella Madesi presiede questa società da tempo sono il cuore pulsante dell'autodromo perché sono loro che consentono di poter far sì che un evento si possa svolgere nel migliore dei modi all'interno della pista fuori dal circuito deve esserci un'organizzazione una macchina organizzativa che deve fare in modo che tutto possa poi funzionare nel modo migliore ma all'interno del circuito che poi è il cuore dell'evento loro sono sicuramente al primo posto e ne ho un ricordo fantastico ho vissuto tantissimi in realtà mi fermo un attimo per dirti più che parlarti di cosa ho portato c'è da dire che quando arrivai a Imola bisognava ristrutturare una situazione pregressa non felice e quindi più che ristrutturare sì inizialmente l'idea era di ristrutturare però in realtà ho reso conto che era meglio ricostruire perché insomma si faceva prima quindi è stato necessario dover ricostruire tutto tutto da capo affinché in termini non tanto strutturali ma proprio organizzativi affinché si potesse avere un circuito quindi una società di gestione che potesse funzionare nel migliore dei modi e ritengo che insomma questo obiettivo che mi ero posto e che c'eravamo posti poi anche con consiglio di amministrazione è stato raggiunto. Devo menzionare per la questione proprio di importanza e di passione, competenza e lungimiranza non avrebbe definito oggi un visionario, Umberto Selvati Castensa è il presidente dell'autodolo di Imola che da sempre e in qualunque momento aveva sempre, scusa il gioco di parole, la ripetizione, chiaro l'obiettivo e anche nei momenti più difficili era sempre lì a dare coraggio e a spingere per poter riuscire a ottenere gli obiettivi quindi lui ha un merito enorme, cioè io a mio modestissimo parere Imola deve tanto, Umberto Selvati Castensa che in questi dieci anni di sua presidenza ha fatto sì che l'autodromo potesse continuare la sua attività con tutta una serie di difficoltà, rispettate da problemi che tutti conosciamo, legati al rumore, legati al numero contingentato di giornate e così vi discorrendo. non è sempre riuscito insomma a lottare, diciamo così, a lottare, quindi che se lo tengono stretto un presidente così. La mia missione era diversa, la mia missione era quella di rilanciare da un punto di vista manageriale sportivo il circuito e quindi questo è quello che ho cercato di fare e ritengo di esserci riuscito perché siamo arrivati con le auto fino alla GP2 con le moto fino alla Superbike e da lì a scendere, non me ne vogliono le altre categorie ma insomma sono riuscito a portare unicamente appunto a Uberto, già detto a GP2, piuttosto che quello che oggi è il WEC cioè ai tempi si chiamava Intercontinental Clemence Cup e Clemence Series, oggi è diventato WEC, oggi da qualche anno è diventato WEC l'International GT Open, piuttosto che l'International Superstars, tantissime gare, grande merito va a Sergio Peloni per aver creduto nella mia gestione portando ben tre gare l'anno, grande merito va anche ad ACI Sport che nella figura di Marco Rogano, suo direttore di ACI Sport, amministratore delegato ci portò due gare di campionati italiani a ACI, sai e da lì a seguire, insomma c'è tantissime gare per le moto, il mio ultimo anno di direzione, siglai l'accordo per tre anni di CIV, il campionato moto velocità e di Coppa Italia quindi diciamo che sono riuscito a riportare tutti gli eventi possibili, sia per quanto riguarda le auto che per quanto riguarda le moto mancava soltanto la Formula 1 e la MotoGP provammo anche per la Formula 1 e per la MotoGP ma c'erano difficoltà di varia natura da dover superare ho detto che questo non possa avvenire nel futuro, insomma, glielo auguro sicuramente all'autodromo di Imola, alla sua gestione e soprattutto a Alberto che è il presidente della diestenza che sta da tempo cercando di riportare la Formula 1 a Imola quindi questo per dirle breve, tanto lavoro, ricordo tanto lavoro, potrei citare molte persone ma finirei per dimenticarne qualcuna qualcuno l'ho già citato ma, insomma, citerei anche il dottor Giancarlo Caroli che ha avuto un ruolo molto importante era il centro medico dell'autodomo, il dottor Claudio Costa, tutto il personale della Clinica Mobile tra i quali c'era un giovanissimo Michele Zasa, oggi a capo della Clinica Mobile, quindi insomma ho veramente ricordi meravigliosi e tutto il personale, ovviamente, di direzione, degli uffici che mi ha seguito non voglio fare un torto a una persona splendida, meravigliosa che è Giorgio Campana direttore di gara internazionale e nazionale che ci supportò con la sua preziosa persona per tutte le gare di auto per aiutare a crescere il personale, per sì che tutto potesse andare seguendo tutti gli standard possibili e immaginabili grande soddisfazione, l'esperienza lingua la conservo con una grande soddisfazione, difficile, veramente difficile perché abbiamo attraversato un periodo certamente non facile, però bella, bella, molto bella non mi pesava entrare la mattina all'alba e uscire anche alle 2, alle 3 o alle 4 del mattino insomma, ricordo addirittura riunioni nel paddock con l'allora responsabile del servizio di controllo Pietro Bertoni mi ricordo, ci incontravamo anche alle 2 di notte nel paddock, si facevano riunioni operative alle 2 del mattino o, mi ricordo con molto piacere, l'avvocato Giuseppe Girani, che era l'avvocato dell'autodromo, della società con il quale iniziavamo le riunioni alle 21 di sera, le finivamo alle 1 del mattino per esempio insomma, orari particolari, c'è da dire che quando io arrivai a Imola l'organica era composto da 3 persone contro le 39 di Monza, ma giusto tanto per dare un paragone eppure, devo dire, siamo riusciti a fare tutto ciò che ti ho detto incrementando di poche unità la struttura tanto lavoro, tanta passione e i risultati arrivano Lavorando abitualmente a stretto contatto con governi e fondi di investimento il tuo approccio, diciamo così, cambia in base al contesto in cui ti trovi a operare? Beh, domanda complicata Sì, allora diciamo che cambia necessariamente perché cambiano le necessità cambia l'approccio, cambia la mentalità, cambia la cultura e quindi bisogna talvolta adeguarsi a quello che sono le modalità Io, mia di massima, cerco sempre di dare le linee guida Poi, devi attenerti necessariamente a quelli che sono i protocolli locali Ora, per ragioni ovvie legate ad accordi di riservatezza non citerò né le società o i governi e quindi le nazioni ma ricordo come in alcune circostanze anche per scrivere una semplice lettera ci volevano tre giorni, nel senso io scrivevo la lettera e dicevo ok, possiamo inviare questa lettera a questa realtà e prima di tre giorni non veniva deliberata cioè passava di mano un numero di volte e poi magari mi ritornavi identica non andando da sei tre giorni, cioè senza collezioni questo per dirti sì, sicuramente dipende la relazione in cui lavori devi necessariamente adeguarti a quello che sono i loro usi e costumi A quali progetti stai lavorando in questo periodo? In questo periodo sto lavorando a progetti innovativi normalmente io vengo chiamato per sviluppare nuove realtà che mi chiamano, vogliamo costruire un nuovo autodromo talvolta partiamo dall'individuare l'area migliore nella nazione in cui desiderano realizzare questa struttura e quindi io mi occupo di tutte le fasi manageriali, gestionali di coordinamento di tutti i professionisti che poi lavoreranno alla realizzazione del progetto Da un anno a questa parte ho deciso di al di là di portare avanti anche questa attività sono ancora oggi consulente di diverse realtà ho deciso di portare avanti delle mie iniziative personali mi ho parlato con alcuni fondi di investimento i quali hanno ascoltato con attenzione e accolto favorevolmente quelle che sono state le idee progettuali che avevo loro presentato In questo periodo sto lavorando con due architetti in particolar modo che mi fa piacere citare uno è l'architetto Luca Peghini l'altro l'architetto Sebastian Borzoni Luca Peghini si occupa di tutti gli aspetti direttamente architettonici mentre Sebastian Borzoni si occupa di tutti gli aspetti legati al design, rendering e quant'altro ho sviluppato non a caso sto usando in prima persona naturalmente non uso la prima persona ma in questo caso è una mia idea è un progetto innovativo che potremmo definire di circuito club con delle caratteristiche molto particolari Luca l'architetto Luca Peghini e Sebastian Borzoni stanno rappresentando dal punto di vista architettonico quelle che sono le mie idee progettuali e devo dire sono veramente molto molto bravi da presentarle nel migliore dei modi riescono veramente a vedere ciò che io ho in mente quindi non è facile e quindi sta venendo fuori un ottimo lavoro che credo termineremo da qui a giugno in realtà sono cinque progetti che da qui a un anno e mezzo più o meno dovrebbero essere terminati questo che ti sto accennando è uno poi ce n'è un secondo che potremmo considerare più faccio fatica perché sono tutti progetti che hanno della riservatezza quindi non posso in questo momento dire di più magari tra qualche mese posso sbilanciarmi dopo che tutte le registrazioni sono state fatte quindi siamo tutti più tranquilli sotto questo punto di vista diciamo che è un parco è un parco di divertimenti un parco di divertimenti totalmente innovativo non esiste nulla del genere al mondo ce n'è uno solo piccolo, molto piccolo in Cina totalmente diverso da quello che io ho in mente quindi stiamo lavorando anche sotto questo fronte sulla realizzazione di questo parco dei guarda tolgo la parola divertimenti la parola è un parco esperienziale un parco esperienziale che vedrà coinvolte le università vedrà coinvolti i poli tecnologici incubatori, centri di ricerca la nazione purtroppo a me non sarà l'Italia però insomma anche qui ho parlato con un fondo di investimento che ha sposato l'idea e quindi stiamo procedendo e poi ci sono altri tre progetti ma è inutile che ti ti elenco qualcosa che dico o non dico cioè non avrebbe senso magari ci rivediamo in un'altra circostanza e parliamo solo di questi progetti che sono cinque diciamo che a breve potremmo parlare dei primi due poi con un annetto degli altri i primi due diciamo che da qui a fine anno il primo come ho già detto giugno dovrebbe essere pronto più o meno il secondo da qui alla fine dell'anno e che dire i fondi di investimento erano entusiasti erano spero lo siano ancora li ho sentiti in questo momento sono in stand by cioè procedi e vediamo esattamente come andranno le cose non dovrebbero esserci particolari difficoltà soprattutto per il primo dei progetti perché insomma è rivolta a un'utenza ristretta con possibilità economiche abbastanza importanti quindi non dovrebbero esserci grossi problemi però vediamo io sono un ottimista di natura e guardo con ottimismo al futuro nonostante tutto nonostante in questo momento si fa fatica a guardare in maniera positiva ma del resto se non guardo in maniera pessimistica non trovo soluzioni e allora bisogna guardare con ottimismo per cercare di trovare delle più che delle soluzioni cercare di vedere oltre ecco vedere oltre lo stacolo maggio come ben sappiamo è un mese molto particolare per gli appassionati di motorsport mi riferisco in particolare alle perdite di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna a Imola nel 1994 ma anche ai rally Henri Toyvonen nonché Sergio Cresto Gilles Villeneuve ovviamente in Formula 1 sempre e Lorenzo Bandini secondo te qual è l'eredità che ci rimane da questi grandi personaggi del motorsport? è una grande eredità il fatto che tu li stia ricordando è che a distanza di tantissimi anni dalla loro scomparsa sono ancora presenti nel nostro immaginario collettivo come se fossero ancora realmente qui con noi questa è la verità più importante cioè dire la passione e la forza che loro hanno trasmesso va bene al di là della morte cioè resta e quindi loro incarnano a mio avviso quello che è la passione pura per questo sport chiaro questo è quello che dovrebbero dovrebbero in un certo qual modo studiare come fenomeno tutte le nuove leve la passione cioè stiamo parlando di piloti l'ultimo dei loro pensieri era il motorhome piuttosto che l'ospitality piuttosto che l'addetto stampa personale le PR o quant'altro c'è una persona genuina vorrei concludere questa intervista con una domanda di attualità diciamo non si parla altro in questo periodo per ogni motivi di gare online qual è il tuo parere in merito secondo te è una qualcosa che sta prendendo piede che proseguirà o rimarrà un po' un fuoco di paglia per così dire non credo che rimarrà un fuoco di paglia è sicuramente nato come una nicchia di mercato che adesso si sta espandendo in maniera molto molto importante abbiamo visto che a queste gare online stanno partecipando anche piloti molto blasonati della MotoGP della Formula 1 sicuramente in questo periodo per chi ovviamente ha avuto piacere di assistere a queste gare online è stato un modo come un altro per passare del tempo io personalmente pur rispettando a massimo quello che è un nuovo fenomeno lo vogliamo definire fenomeno è quello che sicuramente sarà un business molto interessante quindi c'è spazio per tutti al mondo quindi che benvengano anche le gare online che benvengano i simulatori che benvengano tutto tutto questo nuovo settore che sta sviluppando ci sono tante aziende soprattutto anche italiane che stanno andando molto forte a livello mondiale quindi benissimo cioè fa un po' trovo un certo parallelismo un po' con la Formula E insomma per intenderci cioè quando qualcuno mi chiede cosa pensi della Formula 1 rispetto alla Formula E o viceversa sono due due cose totalmente differenti Formula 1 rappresenta un settore ecco cioè di quello che è il motosport la Formula E rappresenta un altro perché non ha un motore a scoppio molti non vogliono non riescono a definirla motosport ma sempre parte del motosport c'è l'evoluzione ritorno alla tua domanda iniziale è sicuramente un fenomeno da studiare ma ha già preso piede cioè non ritengo che sia un fuoco di paia anzi credo che avrà sempre sempre più spazio personalmente ecco cioè a me non piace guardare giocare ho usato la parola giocare in maniera impropria cioè non mi piace guardare le gare online piuttosto preferisco guardare una puntata di bar motosport magistralmente ideato questo bar virtuale per il momento è gestito da Thomas Biaggi che unicamente a Veronique Blasi conducono questa trasmissione con ospiti importanti c'è come l'ingegnere Forghieri l'ingegnere Dallara Andrea De Ademic con Claudio Peroni e Guido Schittone piuttosto che l'ultima puntata c'è la Toni Canan vincitore della 500 media di Indianapolis e della IndyCar insomma preferisco guardare e ascoltare storie di persone che hanno eh fatto la storia dell'automobilismo o del motociclismo a livello internazionale ma è una scelta personale questo non significa che eh mi sdegno le gare online no 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 assolutamente cioè le trovo sicuramente stimolanti evidentemente ci sono dei target a cui uno deve deve mirare però avranno sicuramente il loro target e quello che sarà la loro nicche di mercato che può essere più o meno grande chiaro Walter perfetto allora ti ringrazio per questa chiacchierata e per la disponibilità e mi auguro potremo vedersi il prima possibile su un circuito e lo auguro anch'io grazie a te eh un saluto a tutti eh video ascoltatori in questo caso dovremmo dire eh ci vediamo presto speriamo in un circuito assolutamente ciao Walter ciao a presto a presto